E fu a Bologna che scoppiò la prima bomba Tra una festa e una piadina di periferie E bomba non bomba, noi arriveremo a Roma Onori al Presidente della Repubblica, certo che sì Rendiamo tutti gli onori alla sua augusta persona E l'intiero popolo italiano che le deve rispetto e considerazione Ma al tempo stesso, signor Presidente della Repubblica Ella su quel colle esercita dei poteri e ha degli oneri Primo fra tutti il rispetto e la tutela della Costituzione Repubblicana E poi la sorveglianza affinché non venga la medesima violata E al tempo stesso la terzietà della sua posizione istituzionale Rispetto ai tre poteri, quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario Ogni volta che a Bologna si celebra l'anniversario della tremenda strage Così come anche in occasione delle ricorrenze delle altre stragi Che hanno bagnato di sangue l'intiero stivale Ella puntualmente sottolinea e rimarca la regia di stampo fascista Questa cosa, se mi consente, io non ritengo di poterla condividere E ritengo di non poterla condividere proprio per il rispetto che ho Nei confronti della sua persona Al centralino della sede di un quotidiano romano L'assenzato è stato rivendicato dai NAR, i nuclei armati rivoluzionari Una delle formazioni del terrorismo di destra Un'altra telefonata era stata attribuita alle Brigate Rosse E raggiunta al centralino di un giornale di Genova Due rivendicazioni a dire il vero entrambe inconsistenti La pista rossa venne subito accantonata Restò in piedi solo quella nera La strage era fascista Le indagini erano appena iniziate Ma da quel sabato 2 agosto 1980 Di giorni ne bastarono solo due Per cassare l'inchiesta Sono passate poche ore dall'evento Ed era già pronta la targa Da mettere, da apporre con la scritta strage fascista Ma questa è veramente una storia che ha dell'incredibile Tiri fuori Presidente della Repubblica Tiri fuori Presidente del Consiglio dei Ministri Tirate fuori questi documenti Che avete dichiarato di aver reso disponibile Altri hanno dovuto tenere conto della storia di Bologna Partigiana, antifascista e comunista E non si poteva che condannare due fascisti All'uopo è sorto un comitato Spontaneo Composto da intellettuali, giornalisti, politici Liberi pensatori Di destra, certo che sì Ma anche di sinistra E se fossero innocenti Mimmo Pinto Già parlamentare di democrazia proletaria Nonché parlamentare del partito radicale Ascoltiamo cosa dice Valerio Fioravanti e Francesca Mambro Sono state condannate all'ergastolo Per la strage di Bologna La loro storia è conosciuta a molti di voi Hanno ammesso le loro responsabilità I loro morti Hanno chiarito la loro storia politica Diciamo si sono assunte le loro responsabilità E sono state condannate a più ergastolo Però hanno sempre gridato forte La loro estraneità alla strage di Bologna Non sono stati ascoltati Forse perché erano di destra Orbene nella rossa Bologna Anche le torri degli Asinelli Sanno che questi ragazzotti con la strage Non c'entrano proprio nulla Purtuttavia In quei giorni a Bologna Venne segnalata la presenza Di persone riconducibili Al terrorismo del Medio Oriente Credo che lì fosse in atto Da parte di terroristi Del Medio Oriente In atto un trasporto di Di esplosivo Che loro sono scesi dal treno E che gli sia scoppiato Questa pista La cosiddetta pista palestinese Favorita dal Lodo Moro Presidente Mattarella Il Lodo Moro Il suo leader politico Aldo Moro Il quale rese un servizio alla nazione Perché con l'allora capo Dei servizi segreti Il generale Miceli Fece una intesa Una sorta di patto di reciproca D'esistenza Voluta verso la metà degli anni 70 Da Aldo Moro Fra lo Stato italiano E le organizzazioni terroristiche palestinesi Poco importa se le cosiddette stragi di Stato Siano avvenute tutte Con al vertice dello Stato Governi del centro-sinistra Così nel dicembre 1969 Quando ci fu la strage milanese Di Piazza Fontana E ugualmente accadde Nell'agosto 1974 Per la strage sul treno Italicus E per quella di Natale Del dicembre 1984 Ma anche il 2 agosto 1980 Con la strage di Bologna Il governo era di centro-sinistra Le definirono stragi di Stato Sulle quali venne apposto Per l'appunto Il segreto di Stato Stai a vedere che ci hanno raccontato Un'enormità di balle La Repubblica non è mai stata democratica Ed antifascista Ed è semmai fondata Su tutto Ed in contrario di tutto Tranne che sulla resistenza Presidente Mattarella Mi chiedo e le chiedo Ma furono stragi di Stato O contro lo Stato? Se quella fu strategia della tensione Siamo forse di fronte A sentenze della finzione? Grazie a tutti